Dopo l'allarme scattato nel fine settimana, tornano a scendere i nuovi casi di coronavirus in Toscana, otto quelli riportati nell'ultimo bollettino regionale sull'epidemia, evidenziatesi tra gli oltre 1300 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Si conferma invece la tendenza della diffusione del contagio tra fasce di età sempre più basse, l'età media degli otto casi è di 27 anni. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 25% è risultato asintomatico, il 75% paucisintomatico. Tre delle otto positività sono ancora una volta relative a persone rientrate da un periodo di vacanza all'estero. Solo quattro le province interessate da nuove positività, tre a Firenze e Lucca, una a Arezzo e a Massacarrara. Con gli otto nuovi casi le persone attualmente positive in Toscana diventano 518 e continuano ad aumentare anche gli isolati. 501 sono i positivi a casa perché asintomatici o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Sono 1586 invece le persone anch'esse isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con dei contagiati. L'aumento degli isolati è comunque contenuto se si pensa che dopo le 61 positività scoperte domenica, grazie all'efficace tracciamento dei contatti effettuato dagli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle tre asle toscane, sono state messe in isolamento domiciliare ben 217 persone. Resta invariato, ormai da una settimana, il numero dei decessi.